ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al tutima glassute m2 m2 seven seas sette mari questo è il nome completo ma al di là del nome del modello stiamo parlando di tutima glassute un marchio storico che fa parte della culla dell'orologeria tedesca quale glassute forse il meno noto ma sicuramente non meno valido degli altri attraversa tutta la storia dell'orologeria tedesca in quanto nasce negli anni 20 e si mette in luce durante la seconda guerra mondiale quando riceve mandato dalla luftwaffe per realizzare un cronografo flyback che entrerà in servizio nel 41 un aneddoto curioso è questo poco prima della formazione della germania dell'est le maestranze di tutima e parte del personale qualificato si rifugiano nell'ovest continuando poi la produzione come tutima mentre tutte le case orologiere rimaste nell'est vengono unificate dai sovietici sotto un'unica fabbrica sotto un'unica denominazione per realizzare poi gli orologi per il popolo bandiera rossa e avanti così mentre tutima nella sua parte ovest della germania continua la produzione fino a quando poi crolla il muro di berlino nel 1989 e allora da lì in poi prendono la decisione di spostarsi nuovamente a glassutte cosa che avverrà nel 2005 lentamente con calma per avere poi tutta la situazione economica sotto controllo per non fare passi falsi diciamo così ma intanto mentre era nella germania dell'ovest realizza anche un simpaticissimo cronografo per l'aviazione dell'esercito tedesco è un cronografo con dentro un calibro alemagna cronografico dalle classiche forme degli anni 70 come si vede si tratta di un marchio che è ben consolidato nella storia dell'orologeria tedesca e oserei dire anche mondiale e che oggi crea sia orologi con calibri di fornitura che di manifattura addirittura hanno a catalogo uno una ripetizione minuti un orologio veramente con un calibro veramente fatto in house con la classica platina tre quarti di glassutte come si suol dire che però ha una sagoma molto particolare e personale l'orologio che porto oggi sul canale l'ho scelto perché mi piace in primis perché esteticamente rientra nei miei gusti perché ha quella particolare frivolezza unità dei tecnicismi ha delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto quindi è una commissione di stili particolari poi la vedremo nella panoramica vi ricordo che l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è il titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è concessionaria del marchio da poco e di altri marchi e offre sempre un trattamento di favore a voi che state guardando basta una telefonata e scoprirete il trattamento che vi offre ora prima di guardare il vero tutima glassutte m2 vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo stupendo brightling cronomat gmt 40 mm di diametro cassa il suo bel quadrante blu soleil la sfera gmt rossa che viaggia lungo il quadrante un semplice calibro 28 93 all'interno una dimostrazione che non sempre gli orologi si devono prendere perché il calibro esclusivo o è in house o è bla 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 un bel calibro 28 93 dentro un brightling che mi piace che ha il suo perché sappiamo tutti si fa anche così adesso giriamo la camera guardiamo il tutima e poi ci troviamo qui come al solito per vedere un po cosa si può dire nelle considerazioni finali le misure contano come disse selen e allora andiamo a vedere come si presenta questo m2 diametro cassa 40.2 mm spessore 12.7 ingombro trasversale al polso 48.7 e ansa non pervenuta non pervenuta perché ci troviamo di fronte ad un orologio a bracciale integrato sia esteticamente che tecnicamente ed infatti il lag to lag è stato preso includendo quel segmento spiovente che unisce il bracciale alla cassa come si vede è piuttosto inclinato ed è quindi quasi in influente ai fini dell'indossabilità in soldoni a parità di lag to lag si indossa meglio di un orologio con asse standard fa poi specie lo spessore pari a 12.7 mm vi ricordo che stiamo parlando di un diver 500 metri parametro che solitamente porta con sé un necessario aumento di spessore delle pareti della cassa e di conseguenza dell'altezza generale non qui non vi è alcun riscontro in tale senso nella sua globalità sul polso appare chiaramente ben assestato un 40 mm che esula completamente dagli stilemi skin diver o simili retro che imperano oggi e che nella sua contemporaneità riesce ugualmente a risultare fruibile compatto e alquanto sottile insomma adatto a tutti i polsi stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad un orologio che pur impersonificando il ruolo del diver con bracciale integrato presenta un design cassa con qualche particolarità sono proprio quei finali inclinati di cui sopra dargli un tono personale soprattutto perché sembrano parte integrante della cassa quando invece lo sono del bracciale in generale è una cassa spigolosa che viene addolcita da un paio di smussature presenti sia sul lato superiore che su quello inferiore nella vista dall'alto invece l'insolita sagoma della ghiera a risultare vincente in luogo della solita più o meno fitta zigri in natura troviamo degli ampi scassi atti ad accogliere comodamente i polpastrelli sì direi che è funzionale e che la ghiera si riesce a ruotarla in maniera efficiente anche perché gli scatti sono 60 e quindi più netti e distinti rispetto ad un 120 io ho scelto la versione con ghiera completamente in acciaio sabbiato che mitiga alquanto il contrasto della silhouette ma con gli inserti ghiera colorati la particolare sagoma viene messa ancora più in evidenza a filo troviamo poi un vetro zaffero piatto con trattamento antiriflesso nonostante non sporga in alcun modo il suo spessore di ben 2.5 mm un dato congruo al ruolo che deve svolgere per resistere la pressione di 50 atmosfere ed è proprio questo il dato che ci farebbe pensare di trovarci di fronte ad un tool watch marino 500 metri vetro spesso fondello chiuso e teutoniche spallette di protezione corona e invece no gli stilemi di questo m2 sono in contrapposizione tra loro e lo rendono particolare un diver che in altri dettagli strizza l'occhio allo stile classico quasi formale lo si vede chiaramente osservando il quadrante e gli elementi che lo compongono raramente o forse mai si vede un diver 500 metri con le sfere a matita a finitura metallica lucida in pieno stile digest per intenderci oppure gli indici applicati in rilievo anche se a finitura lucida una commistione di stili che può destabilizzare e farcelo rifiutare oppure apprezzarlo e farcelo percepire come un orologio insolito da poter indossare tutti i giorni per intenderci esistono versioni dell m2 in titanio da 44 mm che mettono in mostra le tipiche caratteristiche del diver duro e puro sfere spesse in superluminova ed indici sovradimensionati e sportivi significa che qui si è scelto si è voluto dare un imprinting classico per poterlo trasformare in qualcosa di differente da una parte è anche un po colpa mia ho scelto quello con quadrante blu che rappresenta forse la versione più sofisticata a dire il vero c'è anche la versione rossa che si muove fuori dalle righe per contro c'è poi il nero che si mostra essere molto più sobrio di questo personalmente apprezzo molto questo colore di quadrante che vira leggermente verso il nero sui bordi non lo definirei degraded court perché la differenza non è poi così accentuata ma l'effetto è più o meno quello un blu che ben si abbina alla sfera dei secondi di un rosso sportivo che rende il tutto un pizzico più eccentrico riassumendo e osservandolo da lontano non si può fare a meno di inquadrarlo nettamente nel campo degli orologi ben leggibili e ben equilibrati il datario ad ore 6 divide verticalmente il dial conferendogli una precisa simmetria estetica ma anche in assenza di luce il suo compito lo sa svolgere nonostante quanto detto sugli indici e sulle sfere il superluminova è ben presente ed efficace anche in fase di inizializzazione da segnalare la presenza del dot luminoso sulla ghiera e dell'holipop sulla lancetta secondi non ho ancora accennato al calibro si cela al di sotto di un fondello a vite decorato con un vascello lucido in rilievo e si tratta del tutima 330 nome interno della casa che sta a definire il classico eta 28 24 standard tutima grassute è casa di manifattura realizza degli ottimi calibri manuali in house ma per le sue linee generaliste meno costose preferisce abbottare per i calibri di terze parti non rimane che parlare del bracciale che risulta essere integrato alla cassa tramite l'utilizzo di perni passanti lo si vede chiaramente dai fori laterali bene apparentemente non vi sono indizi di possibilità di smontaggio ma in realtà esistono versioni con cinturino se ne deduce che esiste l'opzione di rimozione del bracciale anche se sconsiglio di farlo a chiunque non ne abbia le capacità io stesso non lo farei per quanto riguarda l'aspetto ci troviamo di fronte ad un design che si muove sulla falsa riga generale dell'orologio un'architettura con maglia d'acca e cuscini centrali completamente satinato e semi lucido che unisce lo spirito tecnico alla sofisticata leggerezza dell'apparire personalmente mi ricorda certi bracciali dei scene che hanno la capacità di risultare robusti e belli a vedersi sicuramente al polso fa la sua positiva impressione e risulta comodo per contro è composto da maglie tutte della stessa lunghezza per la regolazione si deve fare affidamento ai quattro forellini presenti sulla clasp per quanto riguarda i dettagli tecnici occorre segnalare che le maglie sono tenute in fissaggio dai perni a vite e che è presente la prolunga per indossarlo esternamente sugli indumenti in acciaio solido così come lo è la cerniera interna della chiusura un'ultima annotazione prima di lasciarci la scatoletta è molto ben rifinita ma mi ha colpito soprattutto per i 23 mm di larghezza una scelta particolare che aumenta il peso specifico della parte tecnica tool watch dell'insieme possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali per me è promosso ben realizzato solido robusto con alcuni aspetti estetici che rientrano completamente nei miei gusti quella leggera frivolezza degli accenti sul quadrante che me lo fa apprezzare ancora di più voglio dire stiamo parlando di un orologio da diver 500 metri siamo abituati a pensare ad un diver 500 metri come nerboruto grosso massiccio presente al polso no tecnico in questo caso invece abbiamo un orologio 500 metri di impermeabilità ma che secondo me si può indossare nella maggior parte delle occasioni quotidiane certo non una cena a una cena di gala però per la maggior parte delle situazioni è un orologio che va benissimo riesce a risultare sottile quasi elegante al polso cioè un bello orologio per specie con bracciale integrato poi punti deboli sono appunto il bracciale integrato che non si vede come si possa smontare in autonomia cioè non è uno di quegli orologi nei quali si può mettere un cinturino e cambiare al volo con uno in acciaio no un bracciale in acciaio è un po il suo minus però è anche vero che questo bracciale è talmente così bello a vedersi che non vedo perché o uno sceglie la versione con il cinturino o con il bracciale magari un punto debole può essere il calibro di fornitura va bene però su orologi da 2000 euro ormai nessuno in cassa quasi nessuno in cassa calibri in house un altro punto debole può essere in un orologio così teutonico no che sprizza germanicità da tutti i pori e visse ancora la regolazione con i forellini la clasp magari lì una bella regolazione di quelle ingegnerizzate micro regolazioni automatiche sarebbe stato il plus però non tutti gli orologi sono perfetti anzi l'orologio perfetto non esiste come si suol dire io vi ho messo sul piatto l'arrosto se vi piace mangiatelo se no scegliete altro tutte le nozioni che avevo a disposizione ve l'ho messa lì voi guardate le foto la descrizione quello che penso io mettete tutto insieme decidete se buttare via o fare vostra questa possibile acquisizione magari un giorno quando avrete anche più orologi il quattordicesimo orologio un tutti ma ci sta mettiamola così mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua aver guardato il video spero che lo abbiate apprezzato e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love